Cari amici Yamamoto Nutrition, sono felicissimo qui dal San Marino Pro 2017, sono ad annunciare una nuova entrata, un ingresso nel team di tutto rispetto. Non è solamente un coach, è un maestro di vita per tanti, è un supporto, è un fratello maggiore, a volte anche un padre se si può dire. Sono veramente orgoglioso e fiero di poter presentare un ragazzo che è riuscito a fare la differenza in Italia, ha portato il grande bodybuilding e il bodybuilding che già c'era ad altissimi livelli. Giuseppe Romano, il nostro amico Giuseppe Romano. Gli diamo il benvenuto nel nostro team. Grazie, grazie a Marco per questa meravigliosa presentazione. Io sono super onorato e orgoglioso di far parte di questa squadra, di questa famiglia. Ci sono dei grandi progetti futuri che con Marco stiamo cercando di portare avanti. Ci saranno tante sorprese. Come dice Marco, sono giovane, ho tanta voglia di fare e finora, come ogni cosa, bisogna dimostrarlo con i fatti. I fatti sono dalla nostra parte. Allora, io volevo farti questa domanda. Tantissimi atleti si domandano com'è possibile che tutti i tuoi ragazzi, tutti i ragazzi che porti a gareggiare, siano sempre in forma, cioè quella condizione differente, quella condizione bella, estetica, soprattutto in men's physique. Si domandano che cosa c'è dietro? Ti vedono fare questi cheat meal? C'è una strategia particolare? Cosa c'è veramente dietro a questa preparazione? Allora, dietro ogni ragazzo c'è un lavoro enorme. Notti a studiare, scariche e ricariche, a far sì di conoscere ogni metabolismo, cercare di arrivare al giorno della gara 15 giorni prima con un look straordinario e da lì poi partono i famosi 7.000 che per me servono per tanti motivi, per staccare un po' la mente e anche per portare un fisico un po' più pieno e asciutto. Con i men's physique, alle spalle c'è, come dicevo, un lavoro davvero eccezionale e anche con gli allenamenti e con le strategie alimentari. Ognuno di loro ha la sua alimentazione, uno di loro ha le sue calorie, c'è tutto personalizzato e viene tutto studiato nei minimi dettagli e ognuno di loro segue alla lettera quello che gli viene imposto. Molto semplice. Allora, siamo partiti già con la marcia giusta, abbiamo cominciato a parlare già subito quando ci siamo messi a sedere la prima volta, abbiamo parlato di incontri, di seminari. Già in passato abbiamo fatto un seminario insieme che è stato un grandissimo successo. Un successone, più di 300 persone da tutta Italia. Ancora oggi ci sono ragazzi che ricordano quel seminario perché fu uno dei seminari, secondo me, negli ultimi vent'anni uno dei più numerosi. Allora, già stiamo parlando appunto di nuovi progetti, nuovi incontri, per cui adesso non possiamo dare nessun anticipo, però ci stiamo lavorando. Diamo il benvenuto a un ragazzo che non rappresenta solamente se stesso, la sua professionalità e le sue capacità, ma rappresenta un grande team che si porta dietro con il quale è riuscito a fare la differenza nell'ambito del bodybuilding. Io, oltre a darti il benvenuto e ad abbracciarti, ti invito a porre la firma sul tuo contratto. Qualcuno mi disse che le gare bodybuilding vanno fatte per sé. Oggi questa firma non è per te, ma insomma è per un tuo futuro, no? Per il mio futuro, un futuro di tutti quanti, dei nostri progetti, di questa famiglia e dei ragazzi che seguo, che sono più di 100 atleti. Grazie a Yamamoto Nutrition, grazie a Marco che ha voluto fortemente il mio ingresso e ci saranno tante sorprese, tante. Bene, allora mettiamo la firma. Diamo il benvenuto a Giuseppe Romano nel team Yamamoto Nutrition. La Great Grazie a viens Grazie Grazie a tu